L'opposizione siriana ha messo in rete un video che mostra le conseguenze di un bombardamento sulla città di Saqba, che avrebbe causato numerosi feriti proprio mentre a Monaco si raggiungeva un'intesa per il cessato il fuoco. Per il presidente siriano al Assad, gli attacchi sulla zona di Aleppo continueranno, allo scopo di tagliare le linee di rifornimento dei ribelli con la Turchia. Intanto almeno 30.000 persone accampate a ridosso del confine turco-siriano dipendono per nutrirsi dagli aiuti umanitari e per i prossimi giorni si teme possano giungere altre 40.000 persone che sono da giorni in fuga. Parliamo di decine di migliaia di persone in cammino verso la frontiera con la Turchia, cercando di mettersi al riparo dal conflitto in atto ad Aleppo. Come parte del suo lavoro ordinario, il Programma Alimentare Mondiale invia in Siria centinaia di camion ogni mese per cercare di rispondere ai bisogni della gente. Il Programma Alimentare Mondiale nel solo mese di gennaio avrebbe fornito cibo ad almeno un milione e mezzo di siriani, una cifra che a febbraio dovrebbe salire fino a 4,5 milioni. Il Programma Alimentare Mondiale invia in Siria centinaia di camion ogni mese di rispondere ai bisogni della famiglia. Il Programma Alimentare Mondiale invia in Siria centinaia di camion ogni mese di rispondere ai bisogni della famiglia.